Io andrei, a sto punto, di, 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 o Spiteful Priest, o Aggro Shaman, ma Aggro Shaman è bigliacchissimo eh, regà Aggro Shaman è ignorantissimo, però ci vedete, Aggro Shaman è veramente tanto volgare Cioè, questo, cioè, ve lo ricordate? Cioè, ve lo ricordate? Questa cosa qui è stata la cosa peggiore che mi è successa in vita mia, ve lo ricordate? Ecco qua, è imbarazzante, ecco paladino, ma però ragazzi non è possibile, ho preso la lusa stricca dei paladini, mannaia Aspettate un attimo però, aspetta, e mo c'è il problema di prima io, come l'ho fatto a trovare? L'hai fatto, hai fatto import Dungeon Run, non stat, mi dice, però le carte, boh Comunque, dico, comunque, mi hanno detto, Matti, che, che già, già Poli l'aveva detto che eravamo a Milano Ah, me l'hai già spoilerato, caro Starlight G, grazie cara per il sub, benvenuta sulla schiena, grazie mille per il supporto E' Giuliana, Matti E infatti ho detto grazie cara, caro, hai visto che sono stato bello preparato? Eh, salutala Giuliana, la conosci Ciao Giuliana, non mi ricordavo il nome, caro, non mi ricordo il nome mio Grazie Giuliana Bel mazzo quello sulla destra Caro Abbia pazienza, ma Non so perché ne è uscito così Devi mettere il codice su Ah, ha detto Poli, io non ho detto niente Poli, ma chi ti crede? Cioè Bello Bello lui È bellissimo lui, raga Lui è veramente bello il tonem Non potevo non giocare così Perché dopo andiamo chiaramente con Pinnus Dobbiamo solamente capire se è meglio Fare primo Eropower o dopo Dobbiamo valutare un attimo l'Eropower Chiaramente il Mana Portal non si gioca mai Per noi è chiaramente Win Condition Mana Portal Oddio mio Oh signor Oh signor Oh signor Eh no, non posso non giocarlo Chiaramente, cari, il portale non si tocca Cioè il portale veramente non si tocca in questo matchup qua Il portale governa Il portale ti fa vincere da solo contro palla Se hai giocato nel momento giusto Ora se lui mi fa giocare il senza volto Questi sono 2-3-3 a costo 1 Consagration È forte Ma non ce l'ha Cos'è sta roba? Che cosa? Cos'è sta roba? Cos'è sta merda? Matti Sfirmati caro, aspetta, sono il ragionamento Se tra andare lì o meno Ok caro dimmi Ti faccio sentire una persona Senta, senta, fammi sentire Pronto? Pronto Eccolo, carissimo Ora caro lei viene Ora viene a guardarmi Nel caso in cui voglia Ma l'hai fatta Mi hanno detto che stai evadendo tasse per 7 milioni di euro Per l'amor di dio Caro venga Chi cazzo li prende 7 milioni di euro? Ma quando ma? Ma dove? Ma dove? Ok cari Penso se è un momento giusto di giocare porta Non lo so Ora ci penso Penso di sì Penso di sì perché c'ho troppo danno da fargli in faccia Sono 10 danni Non posso mandargli raccontare La vera domanda è se tra andare o meno il 6-3 Se l'avversario passa mi fa un favore E giocherò sicuramente anche Pinnus Però lui ancora già sta a pensare Probabilmente è un deck abbastanza infimo lui Forse è un Dragon Pala Penso che sia un Dragon Pala Non penso nemmeno se classificare Dragon Pala come un deck Però il deck sulla destra chiaramente cari non lo guardate che è sbagliato Ma penso si noti dal Marlock Tide Hunter Ci sei Poli caro? No c'è Leone Sì 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 Ma ho questa fuga di notizia Venga 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 Che hai cominciato tu Eh Daddo Jlighting era abbastanza forte Il fatto è che abbiamo bisogno Questo è il nostro è un deck aggressivo Non ci ricordo Io mi scordo sempre questo quando lo gioco aggro Che l'aggro deve essere aggro Quindi i trade vanno un po' a puttane Fatto per cui questa qua è molto più forte farla a faccia che altro Vabbè questo è OP il portale Io giocarei Pinnus prima però Hunter comanda qua eh Grazie Va bene Non lo so Se non il trade C'è uno mana che tratta un 4 mana Il trade ci sta Il problema è che Sulla fiducia Sulla fiducia sei ritirato Adesso ho contento Sulla fiducia Perfetto in realtà sei ritirato anche prima Ora nella speranza che il detrack vi dia segni di vita Allora ma ti devi prendere il codice Devi fare import e metti il codice Ah me l'avete detto prima L'avevi detto peraltro Ci credi se ti è quello che mi sono scordato? E ride Ok allora facciamo una cosa Lo faccio subito Aspettate un attimo Lo faccio istantaneamente Allora Aspetta un attimo Stringa Mamma che puzza dal Oh Fe Mamma che puzza dal frigorifero amore Non puoi capire Non ho lezzo No no ve lo dico Perché così poi si prepara Quando torna mentalmente Comunque raga Ormai Cioè Siamo in 2200 Però per Mattia c'è il padre E c'è Miriano E c'è Miriano Perfetto Discussione di famiglia Ok Il deck è questo Name is required No ma io No Mattia fai il mal Il maledan Che vuole? Che è? Con chi gioco? Levo tutto Dio in realtà il totem Il fuoco è forte Però voglio Comunque torno qua Deck Non è vero che il deck C'ha meno di 30 carte Non è vero caro Dai però Com'è che non è vero Non lo so Non lo so Non so che ditti I deck sono di 30 carte E' chiaro non lo so Non funziona Card 29 su 30 Mi dice O riprovo Import Deck tracker Sei bolli Ecco Oh buon dio Oh signor Oh no 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 Li fa sei danni Ma anche quattro Bastano O 5 o 6 Oh no 5 o 6 Io perdo la partita Se faccio una cosa del genere C'ho il 50 e 50 E perdo la partita Cosa fare? Dai non fare la pussy E' 50 e 50 Vai a parare il culo Dio caro Dai Ma me ne ha giocato un altro Ma dai Ma no Ma tu hai in senso Tu hai illegali Tu hai un seer Ma santo iddio Mannaia Puttana Ci sono rimasto malissimo Malissimo Porca troia Non glielo facevo un altro un sera Vi giuro Non glielo facevo mai un altro un sera Ok tappa tappa caro Ma questo è un re no? C'è la possibilità che sia un re no lui? Comunque c'è un messaggio in chat A dico Ti dice Emiliana non urlare Scusa amore E Chiaramente è meglio questa giocata rispetto al lupo Tanto se c'è il file probabilmente Lui gli fa troppa paura Cioè lui con dark bombo con il file va rimosso Ehm Siamo fortunati che non c'è uscito l'1-1 Altrimenti dei file puniva Ehm Quanti danni sono? Ragazzi quanti danni Come faccio a non farlo? Allora devi farlo Porca troia Sono 6 12 Sono 18 danni Sono 18 danni Sai qual è il problema? Non mi pensare Eh Ecco lui eh E' lui il problema Eh ma quello non lo tradi Quello vai tutto faccio Te ne fotte di quello Non può morire Non lo so Non lo so Il problema è che ho tutti i bars in mano Se non faccio Questa giocata diventa In condition a tutti gli effetti Perché ha solo barst in mano C'è Nabbo che gemetti lupi Mamma Nabbo che pussi No Nabbo Quanti danni sono? E' illegale sta roba Dai è illegale Mamma quanti danni? Malganis mi fa un culo grosso così Ma sono tanti danni Ma con Malganis ha vinto Cazzo i danni li hai fatto dio caro Malganis Va bene Va bene Non ti curano Ah c'hai giganti Sto tipo Skill Base Skill Fucking base Skillato basamente Basamente skillato Mamma quanto è basato Sullo skill Io rollerei pure il totem Io rollo pure il totem caro Puro Guardalo 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 Che deck Che deck di merda che è Mamma se mi succedeva a me una cosa del genere Perdevo la vita ti giuro Perdevo la vita Quando lo fai però è appagante Devo essere sincero E' molto appagante quando lo fai Appagantissimo Oh signor Oh signor La risale di adire il sottofondo è stupenda E' come una scopata con sottofondo Alive di Atrix Sto cosa mi inquieta caro ArconX Grazie caro per il secondo mese E grazie a Battibarsa Grazie caro per il sub con Twitch Prime E benvenuto sulla schiena E grazie a Bise Bella caro Grazie caro per il secondo mese E grazie a Parmedide1 Grazie caro per il secondo mese con Twitch Prime Grazie caro per il supporto E grazie anche a Zeriodas Grazie E anche Zeronimo Stilton Porca troia Comunque Matti Veramente fra poco sarai un pelato Zito zito lo so Ragazzi giociamo contro Shaman Il lupo è fortissimo il lupo Lo so sarebbe molto forte prendere il trogg Uno che ha chiesto come si chiama il canale di Poli Che vuol dire A Atrix Quanto son forte a sto gioco io Quanto son forte Che prendo sempre il trogg al turno 1 Quanto son forte Stasera Matti E lui non lo prende mai Villano Comunque Matti Dica Allora io mi ricordo Che tu hai fatto un video con Un reno Che cos'è il capisolo? Il manaporta più bello della storia GG cari Comunque La partita è febba Tu hai fatto un Un reno mage Matti una volta E hai giocato contro questa lista Che stai usando adesso Identica e precisa E hai detto Mamma che deck ignorante Non lo userò mai Infatti è un deck di merda E' vero Un deck sbagliato Dai è un deck forte Che devo dirti caro E' vero Scrive giù i copioni dei tuoi video Perché si le ricorda a memoria cazzo Cosa caro? Si 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 le ricorda a tutti Cioè penso che neanche te te lo ricordi cazzo Non è incredibile No No Tattillo invece si ricorda tutto Regà il lupo poi Memoria Memoria Tutto il giorno Questa è una giocata terribilmente forte Dio caro Dai questa è una giocata troppo P Value trade su un value trade Su un value trade Lei caro ha perso Mirejao Lei ha perso E anche bruscamente A meno che Totem Hill Manaporno No hai perso C'è niente da fare A meno che non c'è vulcano Ma vulcano con Shaman Murlock Hai capito? Ah comunque nel frattempo Nabba ha fatto lo straw pool Mattia A Paul in chat Grazie caro Grazie per lo straw pool Ripeti Io non so neanche che cazzo ti hai fatto Qua è Tattilo che mi ha detto Vini caro lo so Vabbè Vabbè tanto c'è un cazzo a fare sta ora Vabbè ti vedevo solitario Poi Stavo bestemmiando in solitaria E adesso Ti posso mutarmi ogni volta Allora raga Vi dirò Che vi devo dire Che vi dico È finita la partita Cioè veramente Questa partita è finita È finita il turno 2 Questa partita Col Manaportal Poveraccio lui ma Ripeto È troppo forte Quando parti di Trog Dai È difficile perdere Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora non basta Però voglio dire Un altro Manaportal Mi dai E io lo accetto Ben volentieri Carissimo Il Manaportal Lo accetto Lo usi Lo accetto subito Manaportal Perché Quale ordine La cesta Che se Qua di solito Mi esce la spell Quella là Che La carta Che Ecco Non è uscita In questo caso La carta Quella che mi fa Costa più Minione E poi Tra di prima Barnes E poi Usi le sue lezioni Non mi ha ricordato Che non se ne ha ricordato Nessuno Sta roba Se gioca No Ruspetta Caro Non gioca ancora Tennis Che mi ricordo Di quando era 4-2 Sono stato pure 4-1 Caro Stato fortissimo Pure il 4-1 Matti Non è attivato Il deck trigger Per 5 Faccio su 5 10 12 3 20 Rolla 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 Non posso rollare O meglio Si Posso No Si Che cazzo Sto facendo Dai Ma facciamo i seri Vabbè Chiaramente Capite Voi capite bene Quanta skill ci vuole Per gioco a sto deck No Cioè insomma Avete ben capito Devo essere sincero Ragazzi Mi sta piacere Sto a risa Mi sto a divertire Sincero Veramente sincero Cioè Ho fatto Ragazzi Segnatelo Con quello che l'ho pagata Con quello che l'ho pagata Tra shard di pinus E quell'altro Vabbè Però è figa Non posso rire di no Mi sto a divertire Mi gusta Mi piace Comunque Matti Questa è stata Ci facciamo un oralmaggioni Caruspetta Va benissimo Va benissimo Mamma mia Questa mi piace Chiedi ai due Mattia Se dopo si sfidano Che t'ho detto Che t'ho detto Che t'ho detto Ma perché me lo devo prendere in culo sempre io Ma che cazzo Scusa No dai Ma non ci ho partito di Tunnel Trog Esatto Poi se lui parte di Tunnel Trog Ma quando si scasso Lui parte di mano Il mio tanto Coin Golem Boomalo Predio solo in bestemmia È l'unica cosa dove posso Quasi competere Diamo poi di pinus Cari il turno dopo È molto meglio l'ordine in questo modo Perché a meno che non c'è una frostbolt Poi però è costretto anche a impiegare il ping il turno dopo A meno che non c'è una frostbolt Sto 3-4 lo con te Santissimo Santissimo Comunque ma ti devi attivare il deck trigger Ora lo attivo caro PINNUS WARRIORO PRETE Beh Diciamo vai Ping Il ping del Mi sa il ping del coso Non lo so Se è indeciso Tra il muta forma Il ping Lo sai Molto indeciso Ma usa Vai druido Forse druido Forse druido Forse druido Sì Sì Mi serve armor per questo matchup qua Allora lui dovrebbe in teoria Fare hero power E Io dovrei traddare il 2-3 il turno dopo A meno che non c'è una cosa 1 Come il lachei Però dai sarebbe brutto da parte sua Ma ti devo fare un'osservazione però Osservi Osservi Allora Oggi Stai avendo fortuna Giusto? Il giusto Il giusto Cosa c'è che manca a casa tua? In questo momento Ciao Ciao già pensato caro Stavo elaborando anche la situazione Lasci fare Lasci fare Poi ho un sacco a casa Oddio Perché Penso che non si possa dire ancora niente di Milano Matti Si può dire di Milano Si 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 che si può dire Si può dire Si può dire Dispondo in modo criptico Perché Lui caro è criptico È normale Mannaglia la puntata che faccio Che faccio La vita è così cazzo Cioè Che faccio Lo posso dire Sì o no? Con le donne funziona essere criptici Capito Che lega è un turno di merda Il 2-4 è terribile Soprattutto contro di me Veramente terribile Io vorrei tenermi il fulmino di Già del turno dopo Mannaglia però Do single Si single Però affortunato Single ma affortunato Mannaglia guarda Su 2-4 mi rompe il ca... Oh gli poteva pure andare Gli poteva pure andare meglio eh Però gli poteva pure andare peggio Cioè il problema è la tempo play Che ha fatto con L'arcanologa Ok Vami faccia caro Non è così stupido Andami faccia Sarebbe veramente stronza Andami faccia Eh cari questa è andata Eh la madonna Secondo me è andata Eeeh Non sto scherzando È andata Scusate ma ci sono i due sommi Vestimatori in live insieme Non sento a vestirmi Come lo spiegate? Io sono in silenzio Io non sto giocando a... Non c'è motivo caro di farlo ancora Non c'è motivo Di prendere o vestirmi a caso Sono tutto bene Sta andando Poi le esse tappa ragazzi Sfortunato in gioco Mi sono morto in amore caro Alunet Ecco Alunet Perfetto L'hai detto nel momento giusto Mamma mia Devo andare a faccia adesso Uuuuuh Attenzione Fermi 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 Citto 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 Allora Allora in realtà Devo giocare intorno a counter Spelle Anche perché c'ho solamente Capirai C'ho solo spell Quindi No 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 Mai Già mai Ma no Ma signor Ma buon dio Non è forte il martello Caro adesso Non è forte Perché Non è forte Fidati Ok Va bene Va bene va bene va bene Non è forte il martello adesso Non è forte perché devo far board Io devo far board Perché lui o mi va a faccia O fa board Ma se mi va a faccia Li faccio talmente tanto danno Che si è tornita in due turni Citto Se continua a giocare a Kiritor Rompe i coglioni Camadosca ragazzi Sta cazzo di gatto Ogni volta è in paz Ma va bene Ok 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 Va bene Faccio Non so che fare Nel senso Se dovesse essere count e spell Abbiamo vinto il turno dopo No Vado faccio Eh sì sì Perché c'è una board D'avversario Non la vedo Sono indecisissimo 3-6 11 Bocca al lupo Però che culo Che ha l'avversario Porca troia Porca troia La madosca Se hai sblocco Ho perso Non deve essere Ice block Non deve essere Ice block Per l'amor di dio Il potere è qui Devi solo Impadronite 3-6 11 Procco count e spell Porca troia Eh lo si fa Forza Ne hai sblocco per forza Tutta la vita 3-8 5-6 7 11 Ha vinto Molto probabilmente Porca puttana Porca puttana 5-6 7-8 11 12 danni Dove potrà dare il 4-3 Forse Non so Non so Chiaro Pure ci va di cattiveria Il cazzo Da 4-3 Quando perdevo 10 volte Vabbè è andato male purtroppo Ti devo dire Non è un problema In terra Avrebbe vinto lo stesso Certo Perlomeno Potremmo trovare la board Quello si È tosta parecchio Dura Tanto dura Tanto dura Comunque che dici Facciamo dire a Poli Ma dica caro Dica Scusi sono te rotta Dica Dica Ma se c'è Tu Può venire anche il duca In chiamata Venga duca Il deck tracker caro scusami Mi ero scordato Te lo metto subito Eccolo qua Ci siamo? Adesso perché non giocava Iteros of secret Ecco L'hanno detto veramente Vero? No Ok cari Contro pressa si va solo Contro pressa Contro pressa Contro pressa Contro pressa Si va solo Faccia Solo faccia Eh però Matti Se avessi Iteros secret Ravino Sapevo io Lo dice che vuole te Ok non abbiamo un turno 4 Quindi non ha senso Non giocare il totem Tanto Finley probabilmente Lo giocheremo dopo Io bisogno Ripeto Il power dell'hunter O del mage No Del Scusi del rogue Ecco Oh hunter Rogue va bene L'hunter sarebbe il top Questo è un big? Se è un big E non ha bars Abbiamo vinto Abbiamo praticamente vinto Anteralo Anteralo E invece Matti Basto non te le chiamare Per favore Questo chiaramente Cari è più forte Del ping del mage Semplicemente che Il ping del mage Per il ping Dovrete spegnere due mana Questo invece Fate due ping Alla fine Perché tanto Andate sempre faccia Con questa Due ping per un mana solo Per due mana solo Ora bars È terribile Bars è terribile Comunque Matti Ti dice il duca Comunque sta cosa Che giocano l'issa wild E non si usa boom A me non va giù Devo pensarci bene Come non usa boom Dr. Boom Eh Non si può giocare? Non ho capito sta cosa No Come no? Perché non la usi? Ah caro scu... Vero Boom Dr. Boom Anche ce l'ha votato Lo shardato Lo sapete? Sì Presumo di sì Ah comunque stava parlando Stava parlando poli Io qua gioco anche in turno oro Volevo a far arrivare anche il signor Ducone Così glielo proponevamo anche a lui in diretta Perché volevo scriverti il signor Ducone Non pensare che mi sia dimenticato di lei Guarda la disco per... Guarda la disco per un attimo E' tal signor duca E' la copertina sulle gambe adesso Ok coin Pisana calda Coin c'è l'essence No C'è l'essence Mi va Sei piagoso cazzo Che prendere la star di ossidana Sono fottuto Devo prendere l'air shock Oh se no mi sa che è l'Ital il turno dopo Quanti grandi ci abbiamo? Due quattro Dieci Un off il turno dopo No è l'Ital il turno dopo Sto dicendo È l'Ital Letta? No non è vero non è l'Ital Non c'è una stronzata caro Non ci fa caso C'è una minchiata No non c'è l'Ital Oddio santo Forte pure questa Parto volcare? Vai vai Volcare L'unico motivo Per cui faccio Sta giocata È semplicemente Per barbaglio Al totem E aver ital il turno dopo Altrimenti La perdiamo Se vado solo di bars Lui mi gioca La spella 4 e vince Perché sicura di 12 Ho perso tutto il bar Ho perso Quindi Ok Sicura di 12 matematico adesso Ma è giusto che sicuri di 12 È giustissimo Però perlomeno abbiamo La value col totem noi Facciamo 8 danni che sono tantissimi Io vorrei sapere Se il signor duca può venire Sul disco Stavo cercando anch'io di saperlo Infatti stavo guardando Anche l'orrore è forte La potion of madness Non penso da giochi C'è un sacco di carte Che me counter Però dai Insomma Veloce Chiarissimo Vai Comunque Sti 4 danni a turni Di certo Non gli fanno bene Ok Ok Quanti danni sono? 5 6 7 8 9 10 Non bastano Ma fai Non posso Non posso farmelo È inutile Ma è inutile che faccio l'inna Se c'ha tutte cure lui Faccio l'inna È inutile caro Bisogna del totem Che da value Ah c'è il duca che dice Sono sul disco ma non li trovo Signor duca si metta in una stanza Chiaramente cari se prendo Basta prendere la weapon Dell'Ital Insomma Non la trovo Non ne dico due Ne voglio una In stanza sfide ho proprietà di tatillo E la sposto poi in chiamata Propietà di tatillo Sì c'è una stanza Si chiama proprietà di tatillo Una stanza chiamata così Non è l'Ital Forse Se non mi muore il 3-3 Se non mi muore il 3-3 Sì Non posso mettere il totem però Pronto Amici Caro Qui c'è una Qui c'è una botta di skill based C'è una botta di skill RNG Non so quello che fare Sono impotenti Anzi a ciò Sto entrando Sto entrando Sulla tua partita Buonasera a tutti ragazzi Buonasera a Poli Skill basalo Skill basalo Skill basalo Duca È venuto il momento giusto Lei è propizio A puttane caro Vada a puttane Che bello Che era il Madonna caro Che Rottante Cioè io c'ho dei feelings Per questo Dai che qua incredibili Però sono feelings negativi Perché mi Questo Questo come Come ti ricordi Mattia Era un stop deck Della Madonna Dimostra il fatto Che sta andando da dio Perché è troppo Troppo forte A Milano Il 31 L'11 marzo Dall'8 all'11 C'è il cartoon mix E io Contattando il tatillo Sentivo che lui Stava cercando di organizzare Una specie di raduno Dei sub Di Atrix Allora io ho detto Visto che anch'io Stavo cercando di fare una roba del genere Sono io non ho twitch Quindi con chi mi segui su youtube Ho detto Minchia sarebbe bello unire il tutto Conseguentemente Non hai detto Minchia sarebbe bello Ho detto Ma porco Sarebbe bello Unire il tutto Di ciaccaro le parole Sono importanti Perché se i menti Mi sapendo di mentire Nelle bestie Ma scusa però Però ma ti hai sempre Troppo a uno Troppo a due Per fare C'è che cazzo Questa roba è illegale È vero C'è anche artigli di giada Come follow up E no basta Eh caro scusi Però la skill è importante In questo gioco In questo ludo È importantissimo Scusa Scusa se ti ho interrotto Poli ma è una partenza La partenza assurda La partenza assurda Vada Vada caro Vada Ovviamente Niente Si cercava semplicemente Di capire se qualcuno voleva venire E di organizzare qualcosa So che c'è anche roba a tema A Marston C'è anche un torneazzo Piccolino però Giustamente noi ci approprieremo Di tutta la proprietà Perché funziona così A Milano Mi hanno detto Assolutamente E quindi niente Una roba completamente libera Così Se qualcuno ha cazzo di venire Ho già sentito Che c'è parecchia gente Interessata Quindi sarebbe bello Organizzare qualcosa Di più o meno grosso Ho capito Aspetta che vedo del dolore Decidio la risposta Vedo del dolore Cioè tu capisci Che io mi vergogno Sento il dolore Io mi vergogno Io mi vergogno Mi vergogno Sono vergognato Sono vergognato Guardalo Che dolore Cioè no non è giusto No 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 Non è giusto Non è giusto Raga è turno 4 È turno 4 Cristo Ho fatto la partenza Vangano i danni in mano E anche la moneta Non ci credo Ho fatto il turno migliore Da quando gioca adesso Non ve lo giuro Cioè veramente Cioè se uno dice Qual è il turno migliore Non ti viene manca in mente Questo perché è utopia È veramente utopia Già cercarla di Così incartarla Un attimino Vai incartarla Vai incartarla caro Se no non ce la fai Quindi vi aggiornerò Vi aggiornerò Una domanda Ma se veniamo Se veniamo a Milano Ci può ospitare Ci può ospitare a casa Sì Lei abita vicino a Milano Giusto Io abito In una tenda Fuori Milano Un tendone Un parco rom Non sono partito Con il tunnel trogg Non è no Non è no Ma non è Non lo peschi Non lo peschi Non so ragazzi Potrei trovare Delle stimazioni C'ho uno di legnano Si chiama Insieme a Viking Vi mando da lui A legnano Sì che lo dovrebbe Chiamassi così Poi c'è a legnano A legnano Per soprattutto Tatillo C'è Sharisha Potrei consigliarti Di andare a casa di Sharisha E noi caro l'abbiamo vista Noi abbiamo capito chi è Esatto Rimasti malissimo Che l'abbiamo vista Per altri Rimasti malissimo Cos'è sta roba Freezing trap Dici Io ti metto fin lì Carissimo Oh io mi tacco Contro Hunter Attenzione Ma vai Colpo di scena Ma io penso Che il butaforma È un bel librido Vai È un butaforma È un bel librido Vai Allora il discorso Carissimo è questo Gli spots sono questi Vado lì È freezing trap È da merda Lo sport più di merda ancora Però C'è una cosa ancora più di merda È l'arma a tre Che mi tratta Finley E poi io comunque Devo andare di cuore E gli do pure L'integrità all'arma Bravo Rischiamo Esclusiva Chiede Nabbo Ma come mai Rimasti male No Rimasti male di cosa Di Della tipa Eh No perché Così no perché C'è va bene Adesso non possiamo parlare Possiamo dire tutto Possiamo dire tutto Non si può dire tutto Nella vita Cioè non siamo proprio Ci sono altre duemila persone Quindi stiamo tranquilli Ecco vediamo Ah era il rante E fa freddo Si guarda come sfia i discorsi Il duca Hai visto che cazzo Io potrei essere il padre Di cerici Quindi non mi esprimo Io ti favo Tre mana tre quattro Gli ha dato Ma di che stiamo a parlare È fortissimo Chiaramente Potevamo Potevamo Contenarla Non di todem Insomma Se era freezing trap O se era Quella due Che fa due danni a tutti Ci puniva Ha detto Miriana Anche io l'ho vista Ecco Perfetto C'è anche Miriana in giro Andiamoce ne caro No ma comunque Miriana io ti assicuro Mattia Un ragazzo Veramente d'oro Continua di più di più Cioè lui guarda Ma non Ogni tanto Non tocca Non tocca Non tocca Ti giuro L'importante è quello Miriana Non l'ho mai toccato Non possiamo Mettere di su una benda Non è Illidian Non è Illidian Non è Illidian Cos'è ognuno Nervosissimo Va benissimo per te questo Si Non è male Non è male caro Assolutamente non è male Dai vai Eccolo là Ma attacca per me con l'1-1 faccia No c'è il 3-2 Vediamo Perché Perché stanno con l'1-1 faccia Quello lì attacca faccia E si rigenera Mattia Bellissimo Ah no hai ragione caro Si si Comunque Col farfuglio te l'ho vinto Eh si eh Cos'è sta roba Cos'è sta merda Comunque si ti dite ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Il totem è fortissimo qua E' veramente E' imbarazzante il totem A meno che non mette il 2-5 Quello va rimosso in qualche modo Poi ci pensiamo dopo Beh dicono Beh oddio I didan si voleva scopare La moglie della sorella Vabbè ma non si può guardar tutto Raga Aia Bravo No a me ci va bene Caro questo Ecco A parte di top deck Uh uh Sweet A me ci va da dio Questo Farfugliatore faccio Ma ti Con la vita Farfugliatore Adesso vogliamo Il nuovo Mazza Faffigliatore Di cattillo Prossimamente Eccolo 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 Ha funzionato Per la prima volta Nella sua vita Un santissimo Che peraltro bravo Non ha mai funzionato Sta carta E' la prima volta Che vedo l'animazione Peraltro Ok Samana hide me Concedo Ma ti dicono In chat C'è paghi che mi dice Mattia ho fatto un video Con gli iscriviti telefonici Con la voce di tatillo Prisa Immagino che Siamo E poi la prossima live Lo linko E lo guardate E' un indegno No perché Misplay Duka Misplay Misplay Completamente Fuori di testa Ma mi fa essere 5-1 Anche lui Ma Non ha Non ha silenziato Il farfugliatore Misplay Misplay Fattissimo Sì Infatti Allora Fatemi ragionare Secondo Questa è dura Penso Crepitivo Tutta la vita Crepitivo Traddo Golem L'unica giocata Che vedo Buona Se invece Voglio lasciare Il problema Che l'arma L'arma E' troppo forte Con l'arma La Doomseer No? E' chiaro Quindi Attenzione La Doomseer Come si chiama Si chiama Dove lo metto Lo metto Dove lo metto Non si sa La stessa identica cosa Farfugliatore Ancora Farfugliolo Farfugliolo Guardate Guardate come è forte Nervoso Guarda lì Bello che non ci faccio niente Ma però vabbè Fa numero Regà Fa numero Fa presenza in board Mi importate che non c'è Sguinzaglia Eh Fatti Sguinzaglia Farfugliatori Lo vedo confuso Il tipo Sì Ma è vero Ma che cazzo sta facendo Boh non so Questo comunque è messo male Ma tu sei a 17 Lui a 25 Ha ragione lui Sì 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 Signor duca Scusami caro Il problema è che non abbiamo una mano Finché non ci esce il doom Con la doom hammer abbiamo vinto la partita Doom hammer Appena ci esce doom hammer abbiamo vinto la partita Martelfatto Tracciamento Ma anche penso il flam Il faceless Il 4-4 Sì Dobbiamo Signori Prima o poi dobbiamo iniziare a baffare Ecco Ecco lo cercava Lo cercava il porco Va bene Ok Bisogna cominciare a sparare No devo sparare Sì Eh sì se no non ce la facciamo No Se c'è un leash down Pazienza Io devo Devo chiudere Eh D'altronde ho così Prima di subito Prima di subito Non ce la facciamo più È una besta che non posso contestare È l'unica besta che non posso contestare al token Essendo leggendaria è chiaro Essendo leggendaria praticamente Ora se c'è qualcosa che la baffa lì da taunt Dobbiamo prendere l'airshock Se c'è un command Eh sì Vediamo Non lo so Vediamo Perché una bordo per lui è molto scomoda questa Avendo solo tre carte in mano L'unica carta che ci dà fastidio è Questa no? Ornetti morti No se trattano uno gli faccio una statua Se trattano uno gli faccio una statua No ma questo qua è un scemo Questa qua Ha chiamato la polizia Gravigliere Benissimo Fantastico L'ha tradato Ha avuto paura Fermi tutti 12 danni 13 Non basta Porca troia Non basta Va bene va bene va bene va bene Ce l'abbiamo ce l'abbiamo Forse ancora un turno Farfugliato le faccia Mattia Tutta vita Rigeneriamo la furia Madonna che forte è sta carta Farfuglialo Sì il problema è che senza Do memory faceless è veramente difficile Ci andiamo 3-6 Uno sparo Uno sparo adesso Uno sparo qualsiasi abbiamo vinto No Il crack Qualsiasi no però Oh finché lui Finché li tanco 12 danni così Ci abbiamo No no il top Però va bene Con il farfugliatore vinciamo Sparo Fermi tutti Attenzione 3-3-6 Madonna santissima No è lì dalla prova deve essere il segreto Abbiamo 10 danni in bordo Ha vinto il farfugliatore Ha vinto il farfugliatore Hai visto? Il pazzisco Il pazzisco Ma ti rendi conto? Nervoso? Ma l'ha buttata via lui Tra davanti 0-3 Farfugliatore è solo carry Ragazzi farfugliatore ci ha attaccato 12 danni Ma di che cazzo parliamo? Ragazzi ragazzi io vi porterò il questillo 2.3 Abbiamo incontrato il peggior facehunter della storia Non so come fa essere 5 e 5 e 0 Matti c'è Mirai che dice non urlare 6-1 attualmente stiamo Quindi questo c'ha 5X C'ha 5X Simoore scusa Ma quando va a dormire Mirai? Allora sabate sabate Che Mattia si deve rifare tutta quanta la guada No Ma poi tanto Con 800 euro Anzi Matti Anzi Matti con 800 dollari Riesci a farla Eh beh penso di sì caro Non si sa Qua abbiamo persone Ma le diamo in i basse ve lo dico Non abbiamo manco il coin Non abbiamo Ah comunque signor Duka Lei conosce Insidia come gioco Ecco caro dica dica Non l'ho mai sentito Insidia Ma è il più bel gioco che abbia mai giocato Cioè io dico Mattia Non riusciamo a smettere di giocare Devo andare a guardare Che cos'è? È free to play Mana Wirma Insidia Metti in mano Wirma se sei un eroe Metti in mano Wirma adesso No 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 Nine Eh pesca segreto dai Va bene? Eccolo là Va bene va bene va benissimo Costretto a giocare Lui è costretto a giocare il ping il trono dopo Io non c'ho altre giocate da fare Questa è l'unica giocata che posso fare adesso Lui è costretto a giocare il ping Noi andremo probabilmente di lupi Mattia se fai minimo otto vittorie Devi fare il farfugliatore dorato Uh Va bene Va bene perché noi pompiamo il trono Va bene Ok ora non mi riprende più lui Ora non mi riprende più Ora non mi riprende più È sua salita Mattia è sua salita non mi riprende più No no veramente Ora deve cos'è tappingare e non mi riprende più lui Perché io vado default Mi riprende mi riprende mi riprende mi riprende Matti Nabbo ha messo Mirjana a mod Stiamo a posto Ci vanno Che cos'è No 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 Nein 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 Eh Sono costretto a fare una cosa del genere Sì perché Per il valletto caro Per il valletto Quindi dopo per forza brocca il segreto Il valletto ti andava troppo bene la 2-3 Chiedono a Mirjana a che ora stacchi la live Ma chiedono a Mirjana il capo Uh che brutto Che brutto Ok ok calmi 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 Skill 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 Ci va la skill Schilla ma Schilla Schilla Rolla come Gesù No Non ha rolla No Sono costretto Sono costretto Faccia faccia Sono costretto a tradarla caro Faccia Due danni posso farli Faccia Il problema è che se la lasci giù Ti pulisci la board Poi non la prendo Non lo so Vedi te Mattia Sei tu quello forte Matti Ti dico in chat Non ci riprende più Ci trazione Non ci riprende più Eh vabbè Ma il laccae è il segreto Ma distrutto Non pensavo che sia una gialla così forte Non ci riprende più Non ci riprende più Abbiamo molti Eh la madonna però Ti ho pegato un altro segreto Cazzo di Di cose Comunque Quando riguarda Milano Signor Duca Per me Mattia Basta pure un letto singolo Non è che Ah insieme Mattia quindi Cioè Ho capito Vabbè ma sono scelte Che io Diciamo Non Non appoggio Nel senso che non le faccio Ma Le va bene Però van bene No vi va bene Magari è un Sblocchi Amore No Odio sull'amore In qualsiasi senso Eccolo là No Dai 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 Fammi far qualche danno Uh Uh L'ho presa Cosa cosa L'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa Eh io vedo un po' dopo Perché L'ho presa L'ho presa L'ho presa È andata L'ho presa Non ci riprende più Oppure sì Dio sì Sì potrebbe riprenderci Due quattro Il duca è un uomo di mondo Eh sì ragazzi Non è come Mattia Come Mattia è un uomo di mondo Mi basta un bars Doppio No 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 Doppio la che No Ok Ok Mi devi frizzare la faccia Ma no Ho già giocato Frostbott Una sì Tutte e due Tutte e due Tutte e due Ok Meglio Uh Non è proprio quello che volevano Boom Boom Sei danni Litar Ah no Cazzo No Eh no Taut E' la stia L'altra Serve luce ragazzi Ah Lo sapete che bene Perché questo deve in qualche modo di tradarlo E deve tradarlo Forse anche lo 0-2 E abbiamo lì Ah 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 Non town Non town Non town Don't town E qui Skill E qua che rende in gioco la skill Vediamo No 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 Fate finta di niente Vi giuro su Vi giuro su Faccio finta che questa non l'ho topecata Quindi io me la gioco su Quindi me la gioco su Crepitio Sennò è sconsidera Me la gioco E quindi anche Aspetta il rollo Aspetta Mi la gioco anche sul rollo No in teoria Ok Perché io avrei rollato Giusto? Avrei rollato Avrei rollato Quindi è impossibile Perderlo Avrei rollato E poi avrei giocato lui Ecco E ora che faccio? No no Ma perché mi devo far male Perché mi devo far male con le mani Ti sei messo tempo in questa situazione Penso che se ne vado tu Ma non vanno via Cioè capisci? No non posso fare una cosa del genere Ma dai già è partito il Forza la Forza lì Forza lì Mamma mia che porca troia Impazzio ragazzi Boom Perché mi devo far male con le mani mie Mamma mia ragazzi Come una sigaretta Questo c'hai cojones Hai cojones Porca ragazzi Comunque non so che lo sei notato Duca ma siamo partiti Anche sta partita col tunnel trogg Tunnel trogg è fortissimo Una cosa in sé I troppo a uno della blizza Sono sempre Tunnel trogg è il 90% di win rate Se parti col tunnel trogg Ti dicono che sei un Un uomo vero Mattia Grazie carissimo Il primo complimento in Io voglio partire di tunnel trogg E niente Nel trogg Vabbè il connetote Non è proprio uno stronzo Non è proprio uno stronzo Certo Top deck Sarebbe stato bello Il top deck di tunnel trogg 1 2 Come prima era Identico Sessa partenza di prima Poteva uscire Da questo povero Poli Mi sembra che è andato in bagno Non è Poli? No ci sono Sono qua io Stavo giocando a Ozz Quindi mi muto Per non bestemmiare Ozz sarebbe Un gioco Un gioco spinto Ozz Dal nome Allora gari Abbiamo giocato intorno a Dark Bomb In questo spot qua Perché Dark Bomb C'ha asfalto il golem Non voglio Che lui abbia un trade Col 2 1 Che possiamo Tata con l'arma E tradiamo anche il 2 3 adesso Chiaramente Con l'arma E andiamo Di totem Ora sti due totem Che c'ho a mano io No? Questi due qua Non è che sono proprio bellissimi Non è che sono proprio bellissimi E dovrò probabilmente Giocarli Perché non si Dipende da quello che fa lui In realtà Perché se gioca a Minion Io non posso giocare i totem Siamo troppo sotto Se invece Tapper Non gioca nulla Baroli doppio totem Ma lui probabilmente Gioca una cosa adesso Ecco La peggiore cosa Peraltro Eh sì Mannaglia la puttana Questa è dura Questa è dura Questa è parecchio dura È durissima Questa è una giocata Fondamentale Il problema è che dopo Mi gioca anche i Voilor Capito? Come si chiama? Eh quello Quello è il bastardo Sì E quello Non è quattro Va trattata Bisogna andare fuori Del range del fire In qualche modo E quindi purtroppo Devo buttare danni così Abbiamo il senza voilor Se mi gioca il 3-4 Ho perso Cioè non c'è da discute Ho perso Mamma quanto era forte Caro quella carta Pissantissimo Cioè gli puoi prendere Il Voilor Malganis Qualsiasi demone Prende è buono Doonsayer Capirai Ciao Tortuga Dai fammi una tappatina Coso Perché il faceless A bordo vuota È fortissimo È imbarazzante È fortissimo E poi c'hai Eeeh E tappa E falla una tappata Eh quanto ci voleva Caro Allora non può ancora Utilizzare Il risucchio Quindi siamo messi bene Sì Siamo messi bene caro Perché dopo arrivo Di totem Dopo arrivo di totem La domanda vera Se andrà faccia o meno Penso di faccia Tutta la vita Che mi dà fastidio a 5 Di mana Che mi contessa i 7-7 Scusami Eh pensiamoci in wild Non penso che abbia Tanto a 5 di mana A tutti i demoni No No Non può fare Non può fare Penso che vanno Sempre facile Sempre Qui dobbiamo iniziando a fare Cioè qua Ora che vediamo prima del turno 7 O sempre abbiamo perso Vediamo A coin ci aveva ancora Porca Vabbè comunque Comunque non fa niente C'è la giocata giusta Era comunque quella che abbiamo fatto Assolutamente Assolutamente c'è Il fire Eh qua Probabilmente Vabbè C'è poco da fa Cani Dei file chiaramente non è un problema Il top deck di 6 consuli Mi fa malissimo Eh la propria top deck Sette danni sono tanti contro lock Anzi Sono imbarazzantemente tanti Sette danni contro lock Sono quasi E' una mezzo gg Vediamo che sto toppercato Il fire l'accetto Il fire l'accetto Questo è Flavio Flavio basta Ne sa Ne sa Ne sa Probabilmente con il fire Lui mi tradda Quasi tutto la board Se poi c'hai il fire Dei file è gg Perché non prende danni Con il fire Lo è Medista Dei file Medista dei file E' forte Medista dei file C'è forte Ni Non c'è modo Che li possa dare tutto Con medista dei file No Probabilmente Questi C'è ma Fanno una roba E poi pensano Che cazzo stanno facendo Adesso farai Non può non giocare Cioè Non può non giocare dei file Ha giocato proprio da dei file Questa qua Non so che sta pensando Sta impazzendo Perché non muore il 2-3 Non so veramente cosa lui stia pensando Sta impazzendo Perché non muore il 2-3 Sta impazzendo Eh ma non c'è modo Alcoli l'ha giocato Non può fare la spira Ha solo due di mana Non so che cazzo sto facendo Forse sta pensando Spiro dei file Eh non lo so Però Ne ha due di mana Può fare uno l'altro Lo aspetta dopo Ah cavoli Hai capito Che sia la 7-7 Buono questo Buono Finchè non c'è tanto Grosso Sì è forte questo Tanto vabbè Ci distrugge tutto Con il fire Quindi finchè posso Devo Allora Io questo qua Devo tradarlo Purtroppo Non so Allora Tu che sei esperto Di cube block A turno 7 Che cosa può fare Tanto più o meno La lista wild È come quell'altra Il problema caro È defile ospira Capito Eh sì Però Non lo so Non lo so Se hai il fire Comunque finisce Schifo Uguale Sì Il problema è Defile ospira Questa è una giocata Difficile Molto Ti andranno da faccia io Ti andranno da faccia Non era meglio Far totem E pushar danni No caro Abbiamo troppe cose forti Per l'arma Possiamo Qua rischiamo di chiudere La partita Se prendiamo l'altra L'altra arma Perché sono 15 danni abbiamo in mano Capisci Sono tantissimi Qualsiasi burst Prendiamo e l'ital Vediamo se fa In realtà no perché abbiamo 5 di mano No che sto dicendo Lighting bolt e l'ital Vediamo che fa Vediamo che fa Il problema è quei 3 deal Capito Quindi dipende molto da come contesta la board adesso Vediamo Prima va lì Quindi va bene E poi fa un'azione Ok Ok Questo rompe il cazzo E probabilmente ne giocherà un altro dietro Sperando di no No Un ratto sarebbe Vabbè Cristo santo E' terribile E te l'ho detto Te l'ho detto Altro martello che serve a pro Pochissimo Mamma mia Eh non so Usa il totem Per tradarne uno Mamma mia che palle cazzo Elementi guidatemi No non lo trado caro Elementi guidatemi Se tanti li faccio Abbiamo preso il totem E va bene Io devo chiudere la partita Sennò ho perso Altro 9 c'è il board Ho perso Altro 9 c'è il board Non c'ho l'airshock Quindi devo vincere il turno dopo Io non so come Non so come ma devo vincere Vediamo Non so veramente come Tra da qua 5 10 Tu hai il Come si dice Silence Ce l'hai dentro E questa va bene L'ha tappato Fermi Ah cos'è quella roba Che indica Ah che brutta Porca troia Porca troia Ehi voi lo degi g se non prendo l'airshock Purtroppo Sì Ma vabbè insomma Elementi Elementi Guidate Il tanto va anche bene Il boiler è un problema Il boiler è un problema Grossissimo Dai che trovi quella carta Dai che trovi silenzio Speriamo Vediamo Se trovi il silenzio È giusto giocare il Il folgoradic Capito? Perché lui mette Voiler Vado di silenzio E c'ho lì Dal con il folgoradic Col totem Vai Vediamo Questo è il boiler Caro Ho giocato troppo per il boiler De palisi Vediamo Sentiamo Il boiler Come è il rumore Non so neanche come cazzo Che cazzo Io ti ho scoperto Dice Una carta su 18 Una carta su 18 Dai silenzio raga Coia puttana E' qua due ore adesso Non posso nemmeno attaccarlo No perché Perché se questo muore è peggio per me Devo niente E' andato E' andato E' andato No va bene ma se sei sicuro ancora si ma se trovi cazzo un crepitivo adesso Il problema è gulden decay caro gulden decay Ah ok L'ha appena pescato allora è quella lì che sta giocando Non so che la prima Ecco infatti Top deck Al top deck Ci puoi fa niente quando è così Niente Zero Prenda anche non te li prende E io prendo un air shock adesso Peccato Peccato veramente E' andata carissima Non l'aveva L'appena pescato Peccato veramente Abbiamo perso col 6 phone sul top deck Comunque te l'ho detto L'abbiamo perso lì 6 phone sul top deck Quelli sono 7 danni Che chiudono la partita Allora Sì io ti ho tips Ma a Merak mando caro Io non vedo Domani tu fai stream? Domani sì Mi invita Mi invita a giocare a gioco Io Mattia sai che ti mando spesso Mi invita Dei locali su whatsapp Avrai Eh caro Perdonami Perdonami Scusi una cosa Quindi ti ho detto proprio questo Se domani ci siete tutti e due Assolutamente sì caro E creerò anche un ammutinamento Mattia in realtà Domani sei anche tu live Ah Eh possiamo farlo Perfetto Tu stai di qua Io sto di là Stiamo insieme Facciamo le due visuali Bellissimo Poi ci aggiungiamo bene caro Mi piace Ragazzi Tunnel troghe e folgore della terra Aia Ha praticamente perso il tipo E non lo sa ancora Mattia leggi sub Sì ma non serve a niente purtroppo Eh no servirebbe qualcosa che Che ricarica Mattia leggi sub Subito caro Grazie a Matteo 98 Matteo carissimo Grazie per il secondo mese Grazie a Tatillo Per gli 11 bits K K K K K K K Puzzi quasi quanto Nabbo Ecco perlomeno non quanto Nabbo Il Tiretramo offendevo Grazie caro E grazie a Trapper93 Per il sub caro Grazie mille Grazie cari per il supporto Uuuu Stavo dicendo uuuu Ma non ti volevo interrompere Aspetta domani il Duca Si riferiva a sabato O domani Cioè o domani venerdì Eh no domani venerdì Ragazzi Se ci siete domani Poi sabato Giovani andate fuori A fare quelle cose No caro che so presone Odio cazzo vado So solo So solo Ma basta Fino a prima Fino a quando non c'è Carissimo Sirpinnus Sirpinnus serve per prendere Il Lero Power dell'Hunter Basta Per quello serve Si E vi ricordo che Arma roccia dura Carta appena uscita Una volta costava Una Allora regà Qui Qui non c'è verso Di uscirne Eh no Silenzio Silenzio No si cazzo Qua il fire C'è asfalto Si Silenzio Qui non Non esco Tutti sti cazzo Di tanno No No lui Porca troia Non posso attaccare Lui è perfetto Infatti Perfetto per settare Porca troia Non posso attaccare Era meglio Che non lo facevi No Per settare Che cazzo dico Tanto Dei file La brocca lo stesso Lo brocca Eh si Perché trada Il peggio Lo so caro Ma voglio dire Il 25 1 e 2 Questo qua Era un coglionino Il 25 Percento Porca puttana Ma non ce l'ha Matti Una volta non ce l'ha Appena pescato Ma neanche Che cazzo Che gioco di merda Capisci che è un gioco basato sul cazzo di caso Di merda No no ma io infatti sto rank 20 Non mi faccio domande Per quello caro Per questo Per giocare intorno a DeFi Potevi fare coin Fulmine di Giada Coin? Sì ma no però Ascoltare Ma tanti stronzate La cazzo lo fa Lascio lo fa Lascio lo fa Lascio lo fa Che non è male Non devi ascoltarlo Il top deck di DeFi È quasi Brutto quanto il top deck Di se funzioni La partita prima Identico Allora Adesso la situazione Ragazzi È critica È critica Criticissima Per quanto è forte Quella fulgore della terra Non abbiamo board Quindi non possiamo far danni A meno che Abilmente Non top deck Chiamo il Frame Waker Faceless O vi dico di più Anche il Doomhammer Va bene Magari Cioè Faceless o Doomhammer E OP Tutte e due Ma che cazzo Facendo questo Il top deck migliore È disco Il messo È andato Infatti cari Giocherò Bello Giocherò Veloce 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 Questo è dato Perché c'era 04 Dimana Che non è Veloce 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 Vai 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 Uno mi esce Però Lasciate Uno Uno mi esce Eh va bene Dai dai Passa 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 Vediamo È tornato Caro Vai Puttana Attiva la coil Per esempio Che male Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Se dov'è mi sta Ciascato Lug 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 Raga Dovete fare Una GIF Un'emote Per la lag Così mi tirate La sfiga All'altro Ma qua qua è tutta una sfiga Qua è tutta una sfiga Fate le prime partite È tornato È tornato È nervoso È tornato Ha tappato Buono Buono Sono due anni Zitto Zitto Ecco Ecco Va bene va bene insomma beh usa l'arma roccia uso totem portale problemi andiamo andiamo sotto a cosa andiamo capito andiamo sotto a il fire manco troppo in realtà purtroppo che se fai arma e totem e tradizioni quattro ma caro il fatto è questo che l'arma va tenuta per forza col domenica sono la vinci mai sta partita che vedo non la vinci mai l'arma non si usa senza domenica dice napo atrix leggi i subs e i sap e le donation se non ti spacco il culo finita sta partita per cattroia non so non so quello che devo fare ma poi di che fine ha fatto quando ho un gioco molto hot usciando come un cristo se mi esce l'arma e malvagissima come giocata questa non potete capire che 2 1 gano l'unico cosa di buono o cazzo buono se buono è nuovo l'uomo è buono carlo è molto buono distruggo le ore e distruggo non gioca il latte è vero il deck suo gioca i void call nebbano non giocare che voi voi che ora si va tutto fa devo devo trovare l'arma l'arma forse del mio silence ancora ma è una fissazione ma che cazzo fa di silenzio tutto io tutto tutto i boni 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 aspetta calmo 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 vorrei anche tra darlo voglio troppo eh voglio troppo non è abbastanza male certo doveva giù il top è quello dei danni sì però così faccio l'in poi capito non mi sembra giusto no 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 diciamo che il locata ha sempre tante risposte ragazzi cattolai l'ho beccato pure però eh sì perfetto va bene non posso non posso fargli danni capito non mi servono anni per andargli faccia lui sono la perdiamo purtroppo non si è messi male quell'uovo che l'uovo ci potrebbe carriare quell'uovo lì quello volo come come ben sappiamo ragazzi l'ocche pristano sempre rimozioni noi ci cantano tantissimo tantissimo cioè se quando c'eravamo air shock probabilmente era persa era perché basta un town 1 3 che a noi ci manda in palla un town 1 3 basta un town 1 ci manda in palla bello il tap ma ti dicono che l'uovo è il male per il defile sì per il defile sì per il defile sì rimane eccolo là e basta pensavo giocasse il fire va bene madonna che classe eccolo 4 5 gioca il coin hunter ma c'era la vita da pescare bravo matti e trovo lo dire aveva fatto anch'io quindi non si ti preoccupare non lo so ormai come devi di pusciare sperare che non ciò down consigliata a tarsi sì 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 perché ormai cominciamo a essere in turni in cui lo certo però porca puttana due dei file ha giocato due dei file ancora 18 carte aveva cristo santo abbia pazienza e fa io giocavo per del file non pensavo che se due dei file in mano lui c'è così è troppo forte comunque abbiate abbiate fiducia che questo io prendo un sacco di bars i problemi anche oggi in realtà ora adesso come adesso il voglio dal turno non può giocarlo non è che c'è rinno jackson allora ha giocato già due dei vari mi è venuto un agone due file lui è abbastanza basso pericolosamente basso è un problema che non ho preso il bar sta mi seguire basta ora gioca giocato giocato e certo è chiaro avessi preso il bar se non poteva giocare a poi lo capito qualsiasi basta andava bene porca tutta cattro e ne avevi di roba nel decca cosa si sono ammettista quindi è ancora nella merda tappa tappa gara tappa 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 non ha senso quanto a fare chiaramente probabilità e no anche quello che il pubo eccolo chito una portiamo a casa La portiamo a casa Tempo cubo Silenzio Fammi attaccare prima Voglio vedere quanti danni c'ho Posso tappare Posso tappare Per il semplice motivo Che non può giocare il Voilord Perché deve aver paura Non può giocare il Voilord A meno che è l'unica sua speranza Vedi che l'arma non è buona Non ci faccio niente dell'arma Eccola Porca troia Eh vabbè un 1-3 scusami E' solo quello GG No 5D No 1 off 9 9 9 Porca troia Un off O peschi e rischi E' chiaramente Non è più un off Non è più un off Non è più un off Crepitizzalo Crepitizzalo Aspe fermati Fermate un attimo 2 4 6 C'è tutto il mano Eh non abbiamo Facciamo Io non so quello che è uscito al portale O facere il crepitioso Sono 3 e andiamo tranquilli caro Andiamo tranquilli No basta che sei tranquillo Otterrativa bene Si io so tranquillo Tu sia tranquillo Alla siamo tranquilli Tutte e due Peraltro 3 danni Ho fatto Vagga fa l'apposta Non è infatti Tutto face BOOM BOOM Però siamo 8 C'evo proprio l'intelligenza Artifiziale Ci hanno fatto vincere l'Archok Io chiaramente sarei andato Di crepitio face Cattivo Il problema caro E' che potevi prendere qualcosa Di brutto dal manaportale E lì piangevi E lì veramente Magari non esiste niente Però in wild Esiste sempre qualcosa Ricordati In wild C'è sempre qualcosa Senza Miriana Si punta alle 24 ore caro Non hai capito Alle 24 Chiaramente Anche Poli Il duca E rimarranno Sì 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 Per sostenere Per sostenere Mattia Queste altre Grazie caro Come se ne avesse fatto Ci sono possibilità Per pub Che dopo In realtà caro C'era la possibilità Per fornay Però se si è fatta una certa Allora Finitutto finiamo la partita E penso che un priest Potrebbe farcela finire Il malligan qui È molto strano Io mi tengo un folgoratore E fai fortissimo Quanto farei Il folgoratico rotante Fortissimo È fortissimo Però Il tu del trog Tattillo Sistema Voglio il tunnel trog Grazie Impara Impara Caro Sembra forte Stamano Sembra forte Impari Questa è la mano Lui mi giocherà No Gigi Gigi Se big Veste morto Non esce Arrivare a turno GG caro È andato Vediamo Uuuuh Feli Feli Che è questa cosa Lui probabilmente Avrà preso una cosa Come silence o pain E il mio folgoratore Fa da bait In questo spot Che è imbarazzantemente forte Tu qua la bait Su chi la fai Giustamente Sul folgoratore Ma arrivano i cani Ecco Ma quanti ne sappiamo Quanti ne sappiamo Da 1 a 20 Questo cambia tutto Questo cambia tutto Cambia i piani È ritornato Il mazzo degli dei No Non ci ha lasciato World Death No Solo uno Si è lasciato World Death C'è la porca Va bene Noi andiamo avanti Per la nostra strada Abbiamo comunque Altra roba da giocare Madonna Santissima Eh devi farlo Per forza Per forza È troppo passivo L'eropower Vediamo se c'è Qualcos'altro Oh ragazzi 1 mana 5 e 3 Ma ne vogliamo parlare 1 mana 5 e 3 È sicuro Come un povero Cristo Allora No no ragioniamo subito Caro Ragioniamo subito Per la sala di Ossidiana Però è ancora meglio Secondo me ragionare Per una OE A sto punto Bravo Ti stavo dicendo Il prossimo turno 6 C'è la Dragonfire Io direi Lupi spirituali No Non penso giochi la Dragonfire Lui No Allora giocherà la Light Bomb E per quello non vorrei giocare il Senza Volto Per la Light Chiaro Perché non ci muore Ma La domanda è Martelfato Martelfato La domanda è Bravo Forse sì Forse Martelfato È la più safe Sì perché lui deve pulire Ma non pulisce E noi al turno dopo Giochiamo il Senza Volto Quando pulira Guarda come cambia opinione Velocemente il Duca Prima dice Sai quale è caro il problema Sì hai ragione Fermi un attimo Fermi Il problema però Rimane comunque la sala di Ossidiana Qua 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 Dove la vedi la vedi C'è un problema Cazzo Tenne ragione Ma non può Trovarla Dall'Ossidiana Dai Eh potrebbe trovarla La sala di Ossidiana Può trovare Ragnar Non lo so La sala di Ossidiana Dall'Ossidiana Dai Trova Barnes Quello si Martelfato Martelfato Vedi te Mattia Sì Du Mammer forse Smorca Smorca Tanto lui deve rimuovere Push ancora di più 7-3 Costo 1 Ok Sto bilanciato Sai perché ho fatto sta giocata? Perché con la sala di Ossidiana Fondamentalmente Potremmo aver l'Ital Perché si C'è Miriana che ti chiede Stai ancora in live Oh Cristo santo Pensavo fosse Non dico morta Ma pensavo fosse a letto Bello il top deck di cosa eh? Miriana ha detto Pensavo fosse morta Due off Due off Ma quanto è bello so deck Porca puttana Quanto è bello so Siamo due off Così a cazzo Due off Facciamo le cose facili Prima In faccia Vai Ma io metterei il totem Il totem? Altri due danni Faccia Lui ha già usato entrambe Le rimezioni grosse Le pain 10, 9, 8 Sai che Sai che porca puttana Il totem ha un senso? Perché poi abbiamo lì Dal in mano Non è che Tantino è schillato Ha un senso il totem Ha un senso il totem Ha detto Miriana Sono a letto Ma con un altro Perfetto La sorpresa Ragazzi Se lui gioca la spell a 4 Non ha tempo che vince E quindi qua è costretto a far rimozioni Potrebbe in realtà Far Slay the Spire Slay the Spire Vabbè son me capito Il gioco nuovo Il gioco nuovo Il cazzo è Slay the Spire? È un gioco È un gioco nuovo Cos'è? 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 È peggio di me Non ci credo Cos'è? Cos'è? Cosa cazzo? È peggio di me Io sono un pro Ma questo è uno scemonito Bellissimo Club club Mi adorabile Io basta Io shardo tutto in standard Tutto shardo Vado in wild Ma questa è una fazione anch'io Sotto tortura e sotto droga Io vado in wild Questo ragazzo ha 9 vittorie peraltro Adorabile Dottor Drie 1997 carissimo Grazie per il secondo mese Bentornato Oh pure Emiliano ha detto Che coglione Brava amore Sì Noi continuiamo a pescar così Ah La mano di Dio Sai che il Fulguradik non è così forte? Contro pala Non so Bisogna vedere Arma rocciatura via Il problema è che abbiamo talmente forte del Trunoni 2 Che voglio anche le manaporta Lio Hai fatto 12 game Hai sempre avuto il droga in mano Vabbè caro è vero Accetto Accetto Mi stai sul cazzo? Io ieri ho pescato 90 carte Non ne ho trovata una di Master Ne avevo due Non è possibile La Master of Battle Adesso è in wild Non puoi più trovarla Dai Poli Su A me sale il crimine Ma scusate La domanda è Ma la ladder funziona adesso O non funziona ancora? No ancora no Non funziona Cioè ce l'ho messo due anni Io lo dico Ce l'ho messo due anni A farlo Non funziona Ok Allora Innanzitutto abbiamo il segreto Duca Tattillo e Poli Non faccia l'ha passata Allora cari il discorso è questo Perché ho usato il coin? Perché non ha senso Develo per il senza volto Perché abbiamo il sovraccarico Del gol E quindi non potremo comunque Giocarlo al turno 3 Questo è l'elegge Capito? Abbiamo il train Hai capito come si gioca a questo gioco? Abbiamo il train adesso cari Cioè ha fatto turno 1 Ha messo un 2-6 in campo Questo probabilmente Concede subito lui No no Questo non è morto Concede A meno che non gioca a Master of Battle In quel caso poi piango io Bene GG Un totem Dai un bel totemmino Che mi piacciono Allora Se io gioco il dardo Non posso giocare il senza volto Però io penso che l'arma è molto forte Sì in questo caso sì Deve finirla subito Bisogna finirla subito Qua la partita raga Tutto face Prossimo turno Arrivano brutte notizie Prossimo turno Per lui è andata Anche perché Qua la carta che mi dà fastidio Chiaramente è colt warms È chiaro Però penso abbiamo un modo di tradare Il problema è la 1-1 Quella vusca di Arriva Arriva No non arriva Non arriva Uuu Non è arrivato E chiede il griso Poli quante volte hai trovato Barnes prima Dica Poli Eh Ah prima Ma c'è Stavo vedendo la live Allora ragazzi Il problema di Il problema di questa cosa qui È il Jave Juggler Dio caro Arriva Nasta col battle Nasta col battle E questo Itta male Itta male Cioè male Questo è buono Ok Va bene dai Può andare al peggio Quello non lo Abbiamo praticamente vinto Va con l'arma No Matti non lo dì Per di dai Porca puttana Uno Zitto 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 Tari ma tali Zitto zitto Ok fermi Che fa Che fa Perché Perché ci va di faccia Non fare 1-1 Oh mio Dio È un eroe È finito 9-12 Finita Finita Tutto finito 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 E siamo a 10 Finito Da quando Passiva pure 3 anni Faceva è tutto finito Ma scusa ma questi qua Che scuole hanno fatto Non lo so Non ci interese È tutto finito Boom Ma questo è legend Ma questo è legend Io non capisco C'è qualcosa che non va Mattia sta pagando I suoi avversari Non è vero caro Non dica Fino a rank 5 Praticamente Mattia Le vince tutte Secondo me Sì e beh Che è veramente Imbarazzante Poi I guai ci sono anche Molte meno persone Ok questa è una brutta mano Perché non c'è il tunnel trogg Ma ora lo prendiamo Abilmente Abilmente Oh Ecco Easy Poli Si fa così Basta fare La mia live Mi ho vestito lo stesso Doppio tunnel trogg Non ha senso questa cosa Mi sta senti male Doppio tunnel trogg Metti la gherica Ma perché Perché Mirjana non c'è Per questo Secondo me è questo A questo punto Mirjana Spero che dorma Peraltro Metti la gherica Mettate la gherica Mettate la gherica Mettate la gherica Mettate il titatillo una volta Magari è lui Io porto fortuna Secondo me sono il duca cari Che porta bene Sto arrivati qui ti va a vincere Ha perso solo una Guardate anche uno Due ne vuole lui Ne voglio due caro Ti ricordo Se fai 12 vittorie Rag E Barnas Eh ma era per Il pristi Il pristi No 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 per questo Si ma si fa Dai dai Dammi ferro spirito adesso Dai adesso Adesso qualcosa di bello Un bel Turs No Allora Ti dicono Tattillo Dica ad Atrix e Poli Che prima della mezzanotte Era l'anniversario della morte Del loro maestro Germano Mosconi Ah Quello sapete cosa Ragazzi Guardate che questa giocata Ha un senso glamoroso Questa giocata qua Ha un senso glamoroso Perché Che facciamo nel turno 4 Abbiamo normalmente Fumine di Java Per scendere dal top deck E se lui cura Abbiamo semplicemente perso Due danni in più al trogg Questa giocata ha un senso clamoroso Si si no no Ma clamoroso Ma clamoroso Ma hai detto face raga Non posso sbagliare Clamoroso Io c'ho anche Soprattutto ha giocato una pain Avendo giocato una pain Questo qua fa danni A meno che non c'è un'altra pain La va a cercare Ma non può usarla Il silence pure mi dà fastidio Ma poca roba Il silence è poca roba Signor Mi va a mettere board Raga board Voglio board Signor Dove la posso fare Io faccio il salto di Ah già È È Fattato Vedi a quanto son bravo io Vuoi vedi caro come prendo Qual è il top migliore qua Che mi può dare Eh Il crepe 4 Crepe 4 Crepe 4 Non so Crepe 4 Non so Palo 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 Vabbè comunque abbiamo il martello Trudeau Ok Bars Qui non mi devi fa scherzi Bars Lich King va bene Non ce l'ha Non ce l'ha Lich King va bene Poi basta Anche Raga Eccolo che arriva Stasera Bene Sversata Sversata Benissimo Doomhammer Doomhammer C'ha l'arma già pronta Roccia dura L'arma ragazzi è già partita da solo l'arma Accidenti Fa il figo Magari c'è la rimozione No c'è la melma La melma E appunto la rimozione per l'arma È quello che sto dicendo ragazzi Attenzione Perché se fa No non ce l'ha Forse si Attenzione Questo è fondamentale No non ce l'ha Due off Matti ignoranza mai vista Due off Due off Sono sei Sì due off Con il dart Due off L'unico motivo per cui faccio questa giocata È pensettare lì nel turno dopo Chiaro Con il Il fatto è che Se tu ci pensi Non ha senso Perché tanto il robo comunque è l'ital Sì Lui potrebbe curarsi Di 12 No Rolla però No ma no Dici usare quello per mettere i bordi E non più di coglioni Può essere Ma è il coltivatore Ma no è ottimo È ottimo Guarda guarda il suo potere Cosa fa? È OP Il coltivatore Fermi Fermi il coltivatore OP Il coltivatore OP Zitto zitto È OP OP È fortissimo È OP Quando Ragazzi questa cosa Sì Che proismo Ma che cazzo è Boom Boom Rolla Arrivano un altro amico di Atom Matti Matti Come puoi non farlo Tu dimmi ora 8 danni 9 danni No vi scusate Matti Dai Sia onesto Bisogna farlo Se rolli quello Bisogna farlo Bisogna farlo per forza Eh no Bisogna farlo per forza È obbligato 3 Fa ancora accidenti Attenzione Crepitio Crepitio ragazzi Top deck Top deck Top deck No abbiamo Abbiamo Coltivatore dorato Abbiamo Coltivatore dorato Abbiamo 10.000 top deck Abbiamo Vediamo raga Aspettiamo Ma ti è che ha detto Pure che schifo Ho visto il coltivatore Che schifo Scusa Sbagliato è vero Coltivatore Sarà nel nuovo E poi quando attacca A prescindere Quando attacca Qualsiasi cosa È nervosissimo Uh E va bene Solo di due Attenzione Vai Top deck Top deck Top deck Skill Skill Non passa Arriva No 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 Adesso No 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 Vai Senza volto È folgoratic Dai Basta il senza volto Caro No in realtà No Perché se la rimozione Quella Sì Ne hai fatto due Allora Allora Dice Luca Matti Forse lo conosci Luca È uno che Che stava in live Con te Tempo fa Sì Farfugliatore E coltivatore Dorati Instant Sì e poi Tu hai coltivatore dorato Porco Chiaramente Chiaramente L'unica cosa che ci Da fastidio È la melma Ma lui è un big priest Quindi non ha melme E questa me la devo tenere per là Nel caso in cui Top deckassi Rockbiter Luca Luca Se sei su discord Dimmelo Ti unisco alla chiamata Che siamo in pochi Urlo psichico Sicuro Dai dammi un burst Cazzo Dammi un burst Cristo santissimo Dai dammi un burst No 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 Non va bene Sette No ma basta Basta un colpo Madonna mia Anche se sia quello Del coso Manca un uo Non serve a niente Vai E fai il potere eroe Il potere eroe Dell'ant No 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 Gioco ferra spirit Ok Vai Ok 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 That's right That's right Manca uno Uno sparo di merda Manca All in That's all in E non può nemmeno Giocare la storia di Ossidianres Non può giocarla Perché ce l'ha sicuro in mano Matematico Come la morte La spena 12 l'ha già giocata Esatto Esatto Anduin Che fai Anduin decay Potrebbe essere un problema Però non ammazza nessuno È vinto È vinto È vinto Non ammazza nessuno Dai Portami al final boss Portami al final boss Ah non è uno Ok Ok Dai 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 Mi scherzi Eccolo Final boss Final boss Allo caro Via Ma nervoso Ma ma nervoso che sono Io adesso ho visto la freccia Che partiva direttamente dal mazzo L'ho messa istantariamente Raga Final boss Ora Non posso perdere Dai Ci rimango di merda Ma ti devi fare il play subito Sono perdere la magia Scusa Scusa Sto distrozzato Vai 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 Sono il flusso Finisce Ragazzi In chat Atrix Take my energy Come Come il buon Gicuzzi Dai dai Oh basta che non becco Paladino Tutto Non lo dire Non lo dire Porca puttana Mattia Trist È un big Non pesca niente Muore Bravo Tunnel trog Adesso Kamadoska No 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 Nine Male Malissimo Malissimo Tunnel trog Solo adesso Eccolo là Eccoli lì I tuoi amici Wow Zitti tutti Zitti tutti Poli Poli commenti Poli nel frattempo È triggeratissimo È triggeratissimo Take my energy Grazie caro Gioca la chieriga Gioca la chieriga Che Non è anche Vai ragazzi Atrix Take my energy Uguale a prima La partita fotocopia Se Zitto cazzo Fero power Fero power Comunque Dicono Comunque Sta run È fatto schifo C'è Abbastanza In realtà Lasciatelo Capito Lasciatelo Concentrare Raga Matti Matti Ignoranza Ignoranza Vuole giocare 7-7 Mattia No no Questo va giocato dopo Non so se giocare il totem Capito Ma giocolo Due danni in più Dai vai Non è tanto i danni in più caro È il fatto che Il coin bars Che mi dà fastidio Vediamo No no Tutto Tutto No Ok No non c'è niente Non c'è niente Ma che paura Ho giocato quella carta di pezzo Se fosse il coin Non c'è niente Boom 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 Eccolo Vai Uh c'è anche l'arma Boom Settata Buongiorno principessa Lo dirgli così Quando Sboom Te ne può rimuovere solo uno Siamo tre off il turno dopo No È lì da il turno dopo È lì da il turno dopo Pazzesco Sì è vero Vediamo Vediamo conto Va bene Va benissimo Va bene Va benissimo Non ho ancora visto Aspetta Ma te non le vedo Cani Così devi pensare Aspetta Calma No no Non puoi usare Esatto Perché sennò ti sovraccarichi Turno dopo Sono dieci danni diretti Non fermo Solo bars Lo salva Undici danni Attenzione Siete danni È vinta Ed è vinta Con la skill Con la skill Con la skill Scriviati i genitori I genitori Non è vero Non è vinta ancora Ma quasi Eh no mancava è vero Mancava un male appunto Va bene caro Va benissimo Qua lì Gli distruggo tutto Non ha senso qua Non far questo Vai Non può vincere Non può vincere Ti spiego perché non può vincere Perché non ha le carte nel day Per vincere la partita Matti No no Non può Non può Non può Ciaccava l'argi Eee L'elementare Raga L'elementare L'elementare È TATILLED Matti TATILLED TATILLED È la punta cassa 12 Ragazzi Non è che è sbagliato Non è che è errato Non è che è erratissimo Errata corrige Si dice No no Matti Lo devi aggiungere I rischi di TATILLED Nabbo Nabbo Fai una cosa Fai lo skin E metterlo su Facebook Grazie caro Ducone La skill tra di noi È questa 12 vittorie Qua chi mi dà? Eh sto mazzo qua I tempi erano Non mi deve da 50 pacchetti No? Eh non lo so Io non vedo più cazzo Vado sulla live a guardare Non capo Quella è per La risa eroica Ma ha dato soldi Ma che cazzo mi frega L'importante è l'onore La gloria Capito? L'importante è la gloria Di aver giocato il deck Più forte in assoluto Comunque Quello che è giusto È giusto Quello che è giusto È giusto Come si chiama questa carta? Giusto Che è il solo pescato Il farfugliatore Il farfugliatore Il farfugliatore o trogg Dai farfugliatore o trogg Perché insomma Il trogg è solo merita Tanto Questo non è un trogg Fali tutte e due nel dubbio Il cazzo Il cazzo ho tue tanto le cose Il farfugliatore di cos'è? Sperfugliatore? Mi ricordo Farfugliatore è di Coboldi e catacombe Caro Faccio poco il simpatico Per l'amor di Dio Faccio poco il simpatico Il trogg è di Ah il trogg è dello sciaman Metti selvaggio Matti Scusa Metti tutte Il trogg è quando l'ho busciato In maniera sbagliata Lo sciamano Così Grazie amore mio Trogg forti Che poi quanto è brutto sta qualche caccia Ma Ma Eh caro Che Niente Tanto Tanto Chiaro così mi faccia nulla Amica La chiara E' fantastico Fai incazzare la vicina E' già incazzatissi Ah il coltivatore era Eh il coltivatore E' meglio il trogg E' il partugliatore Meglio il trogg Per lo meno è giocabile il trogg Su dai Per lo meno è giocabile Il trogg è wild poi Matti Trogg forti No me lo tengo Vaffanculo me lo tengo Carissimi Io ringrazio tutti Per il supporto I sub e le donazioni Ringrazio Il mio amico Duca Grande ospite caro Grazie per ci venire Il mio amico Poli Grazie caro Ci vediamo poi presto a Milano Poi vi faccio sapere meglio Ringrazio pure Tatillo Non essendo amico Però insomma lo ringrazio Perché mi sembra doveroso No 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 va bene E' un sottoposto Però si ringrazio Grazie a Nabbo dalla regia E cari grazie a voi Grazie a voi per la splendida Mi sono divertito Stasieme mi sono veramente divertito tanto Infatti Non hai tirato la bestemmia La bestemmia l'ho detta Sì No Con sull'altro io no Perché vincevi sempre Vabbè poi mi rifaccio la prossima volta Signori Una buona notte Vado a riposarmi un poco Musica